Io lo attendo con tranquillità, non ho fretta Neanch'io ho fretta, neanch'io ho fretta Ma c'è invece... Tanta fretta Tanta fretta, Need for Speed Perché i cavalli si sprecano, eh? Sì, 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 sì Ghost Game è lo sviluppatore, Electronic Arts è il publisher Disponibile PlayStation 4, Xbox One Ma su PC arriverà in primavera 2016 Un po' di pazienza, gli amici dei PC Provato su PlayStation 4, tornano le gare clandestine dopo Need for Speed Rivals Che non era malaccio, però Ambientato nella città di Ventura Bay, il gioco è da tradizione un open world Dove potremo girare liberamente sin dai primi istanti di gioco Con una trama che ci vede ancora una volta Protagonisti di un'escalation verso il successo Dovremo gareggiare per guadagnare punti reputazione Una volta cresciuta la nostra fama Potremo sfidare vere icone come ad esempio Ken Block E poter colmare quella sete di notorietà adatta al titolo Per fare tutto questo dovremo passare diverse categorie di competizioni Gare di stile con le derrapate dei drift, ginkana, gare classiche, attacco al tempo ecc In mezzo a queste sfide il gioco si arricchisce di eventi secondari sparsi per tutta la città Con la costante incognita di essere inseguiti dalla polizia Dando il via a fughe pazze sulle tangenziali, nelle gallerie o addirittura fra i tornanti dei boschi collinari Lo stile di guida può essere modificato in base alla nostra natura al volante Per chi come me ha la cultura dell'impostazione ad ingresso e uscita curva Il setting migliore è l'aderenza Invece chi ama mettere di traverso l'auto la scelta del drift è d'obbligo Non solo modifica la guida, infatti in Need for Speed è fondamentale modificare le prestazioni con i ricambi racing E l'aspetto delle auto, alettoni, minigonne, cerchi maggiorati, scarichi, componenti in carbonio Oppure il design con i colori di ogni tipo abbinati agli adesivi con centinaia di soluzioni Andrea dimmi una cosa, ma c'è un'opzione che ti permette di automaticamente migliorare le prestazioni? E a meno pure devi star lì con ciascun componente? Perché io non è che me ne intenda molto Need for Speed Non è che deve essere una simulazione di... No, devi farne una alla volta Sì, perché tanto lui crescendo di livello ti opziona e ti rende disponibile quella parte di ricambio Ah, ok, comunque man mano che sali la macchina diventa sempre migliore Allora, tutto questo per sfoggiare il proprio gusto creativo nelle strade di Ventura Bay In compagnia di amici multiplayer creando la crew più tamarra ma divertente in circolazione Graficamente il gioco gira con 30 frame per secondo stabili Che stranamente non mi hanno fatto storcere il naso pur essendo un gioco di corso Che strano però, stranissimo I dettagli delle vetture, delle strade, delle luci, dei riflessi e attenzione sull'asfalto bagnato Sono una vera goduria Da ricordare che la natura del gioco è costantemente online per trovare altri giocatori Rendendo più social l'esperienza Ma alla fine serve o non serve che tu sei sempre online? Perché se non hai la connessione non giochi a questo gioco, eh? Questo deve essere chiaro per i nostri ascoltatori È tutto un altro sapore con gli amici Ve lo possono garantire i ragazzi in chat Per chi ama le auto alla Fast & Furious Un'occasione per sfidare gli amici o i giocatori connessi in corse pazzi a velocità folli Ma anche mostrare la propria classe creando mezzi pazzeschi da condividere Visivamente uno spettacolo che per natura più arcade si lascia giocare senza troppo impegno Attenzione alla ripetitività degli eventi Unica incognita che può influenzare una parte di appassionati Quindi attenzione a questa cosa C'è da dire che comunque la varietà delle gare, degli eventi È un po' un problema di tutti quanti i giochi open world Perché alla fine diciamo che finisci per fare sempre le stesse cose bene o male Grazie 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 Grazie